Sono l'attrice Mila Jovovich e interpreto la dottoressa Abigail Tyler nel Quarto Tipo. Questo film è la rappresentazione degli eventi avvenuti dal 1 al 9 ottobre del 2000 nell'Alaska settentrionale. Il regista ha incluso nel film spezzoni di veri filmati d'archivi. Alla fine, sarete voi a scegliere cosa credere. Sappiate fin d'ora che alcune delle cose che vedrete sono veramente inquietanti. Il Quarto Tipo Questa sera alle 21.10 Italia 2